E' il Delta del Po, l'unica meta italiana scelta dal prestigioso quotidiano francese Le Monde, inserita nella lista delle 20 destinazioni del mondo consigliate per il 2023. Parola chiave slow, il turismo lento, sostenibile. Accanto a Roma e Venezia, ora i francesi guarderanno dunque al parco riserva Mabonesco, sorride il Polesine. Tra l'altro tre anni fa per un scambio siamo stati proprio in Camargue e abbiamo visitato il loro territorio e come ho sempre detto lo ribadisco, non è niente a dividiare il Delta del Po e le Camargue che sicuramente hanno promosso da più tempo rispetto a noi il loro territorio. Noi stiamo facendo i passi da gigante in questi ultimi tempi. Stagni, saline, ruscelli che si fondono in un'immensa laguna dove i fenicotteri rosa sembrano conversare in piedi su una gamba sola. E in questo paesaggio lineare emerge improvvisamente un faro bianco, scrive il giornalista francese che è stato ospite del parco ma nella parte emiliana. Noi dobbiamo crescere come due parchi. Abbiamo similitudini che vanno attraverso quello che ho detto prima e cioè quello della valorizzazione dei territori naturali, quello della proposta turistica ambientale, della bicicletta, dello slow, della promozione attraverso quello che sono le eccellenze del territorio, della pesca e dell'agricoltura. Ma oggi come oggi potremmo dire sì come potremmo dire no sotto il punto di vista di preparazione e essere pronti a questa fase qua. Due regioni, due enti parco distinti, ma un unico delta destinatario di finanziamenti europei per implementare la rete delle piste ciclabili, potenziare la navigabilità, migliorare la ricezione turistica. Noi come guide parliamo veramente di un delta unito, senza confini perché non ce ne sono sotto l'aspetto geomorfologico di confini, come non ce ne sono neanche quelli storici. Invece abbiamo le due regioni con i due parchi, con il parco del delta del Po dell'Emilia Romagna nato nel 77 e nell'87 il parco del delta del Po Veneto. Quindi due organizzazioni politiche diverse. 400 anni di storia e il delta sta iniziando a sfruttare la sua potenzialità turistica solo di recente, spinto dall'onda del turismo sostenibile, dalla riscoperta della vacanza lenta immersi nella natura tra gastronomia locale e paesaggi incontaminati. L'ultima variante urbanistica ha visto 47 manifestazioni di interesse ad uso turistico. Un aumento importante di presenze da Francia e Belgio negli ultimi anni ma in generale l'interesse per la visitazione delle bellezze ambientali del parco è in fortissimo aumento. Crash, la richiesta e con i progetti in cantiere si prevede un'attenzione sempre maggiore per una destinazione che è e deve rimanere fuori dai grandi circuiti del turismo di massa. L'offerta di strutture quali hotel e ristoranti ancora scarseggia ma si pensa ad un'accoglienza diffusa. Ogni cittadino del delta del Po deve comportarsi e deve essere consapevole che siamo in un'area turistica. L'abbiamo scoperto, non dico di recente, ma in questa ultima generazione hanno capito che oltre alla pesca e all'agricoltura esiste anche la proposta turistica che mette insieme le due. Perché poi dopo alla fine quando si va in bicicletta in un territorio e ci si ferma a mangiare, a dormire si va a contatto con la popolazione ma soprattutto viene messo sul tavolo quelle che sono le eccellenze nostre della pesca e dell'agricoltura.